Voglio portare il Family Act in Veneto, quindi come una proposta anche da rendere in maniera strutturale a livello regionale, perché sappiamo che la famiglia è stata abbandonata da questa regione e quindi noi crediamo che da qui bisogna ripartire. Infatti nel mio programma elettorale la famiglia è la priorità, è al primo punto, perché appunto significa investire in tutto ciò che è bene prezioso della nostra comunità. Grazie.